Domani al Museo dell'Aciuga di Aspra alle ore 10 avrà luogo la seconda edizione dell'iniziativa Educare alla legalità. Ce ne parla Maurizio Logalbo. Stiamo ripetendo con grande piacere la seconda edizione di Educare alla legalità. Sarà fatto un incontro con alcune scuole bagheresi al Museo dell'Aciuga di Aspra dove verranno diverse personalità tra le quali il Vice Presidente Vicario della Commissione Antimafia Regionale, il giornalista di Open Space Ismaele Lavardera, sarà presente anche Michelangelo Balistreri, Francesco Martorana, il dirigente della scuola Bagnera e tante altre personalità che ci onoreranno nella loro presenza per appunto dare quel forte segnale di vicinanza non solo a tutto quello che è successo in questi mesi e quindi a tutti quegli imprenditori che hanno denunciato e che ancora faranno le proprie e dovute valutazioni ma proprio per dare quel segnale di cambiamento e partire dalla base, partire proprio dai bambini perché i bambini saranno il nostro futuro, la nostra società domani e quindi avendo un cambio di mentalità e un cambio di approccio al fenomeno mafioso sicuramente ci sarà una società migliore, una società più pulita, una società che possa dare lustro al nostro territorio.